Musica Siamo esattamente a Tornarecce, siamo all'interno dell'azienda Luca Finocchio Apicoltura un processo produttivo che conduce alla creazione di ben 14 tipologie di mieli differenti e tanti prodotti nuovi io sono con Fabiana Finocchio che ci spiegherà che cos'è il miele della propria azienda produciamo 14 tipi di miele diversi perché pratichiamo un'arte antica proprio nata nel territorio di Tornareccio che è il nomadismo ovvero trasportiamo gli alveari in varie zone d'Italia e poi con molta cura cerchiamo di non rovinare quello che le api fanno quindi noi facciamo solo l'estrazione del miele e per fare un miele di qualità che ormai è attestata da circa 15 anni in importanti riconoscimenti sia nazionali che regionali siamo attenti a tanti parametri per prima cosa ad esempio la localizzazione degli apiari quindi la zona dove verranno posizionati, poi il giusto grado di maturazione, poi l'umidità quindi tanti parametri, tanti sasselli che poi fanno di un miele un miele di qualità proprio in questa manifestazione lanciamo l'orsetto Io adatto molto per i bambini, un packaging bellissimo ma soprattutto un prodotto che poi il vaso va risfruttato quindi siamo attenti anche a questo carattere, quindi non buttare ma riutilizzare il vaso come portapenne, i bambini sono pazzi di questo vaso anche perché noi siamo una fattoria didattica quindi ci teniamo ancora di più a stare attenti anche all'aspetto dell'educazione dei bambini e quindi anche proviamo questo prodotto anche per loro Lo avevamo in 5 gusti, il miele di acacia che è il classico miele dolcificante che i bambini amano molto e poi delle novità, il miele con il cioccolato, il miele con la fragola, con i frutti di bosco e con i mirtilli